Il canone in bolletta? Semplice come accendere la luce. Altro che spot pubblicitari di Mamma Rai, la vicenda del pagamento dei canoni sulle bollette della luce sta diventando un vero e proprio caos, ancora tutto da risolvere. La lite ora è sul tema dei rimborsi. Il Ministero dell'Economia vuole infatti che siano le società che forniscono energia elettrica a risarcire le famiglie che avranno pagato l'imposta tv quando invece non dovevano, ma chiaramente le società non vogliono farsi carico di questa incombenza. Di fatto inoltre ad oggi si sa che chi non deve pagare il canone, magari banalmente perché non ha nessun apparecchio per la ricezione di programmi tv, deve fare un'autocertificazione. Il punto è che mentre si avvicina la scadenza della prima rata del canone in bolletta, nessuno ha ancora chiarito questa autocertificazione a chi deve essere presentata. Insomma il solito sistema all'italiana per prendere soldi indebitamente dalle tasche dei cittadini promettendo poi una restituzione che non si sa da chi, quando e se arriverà.